Adesania tornerà prima del previsto. A svelarlo è stato lo stesso Easy in un'intervista a IFL TV. Dole Stile Bender al momento si trova a Riad in Arabia Saudita per il grandissimo evento di box Day of Reckoning con il protagonista Anthony Joshua e Dante Wilder fra gli altri ed è lì per godersi l'evento ovviamente ma anche per supportare Anthony Joshua come aveva già fatto in passato e ovviamente quando Adesania è protagonista o comunque è in mezzo a questi grandi eventi tutti cercano di intervistarlo e si cerca di capire un attimo anche quando tornerà in particolare in questo periodo in cui dovrebbe essere in pausa per così dire. Proprio durante l'evento di Fiancy Stengannu contro Tyson Fury erano arrivate quelle dichiarazioni molto polemiche che avevano fatto discutere di Adesania che aveva detto torno nel 2027. Non avevamo già parlato sia in live che in video. Ovviamente stava scherzando, avevamo anche tradotto l'intervista fra l'altro e quindi poi vedendo anche la sua espressione si poteva capire chiaramente come stesse scherzando ma in questa nuova intervista Adesania ha dato delucidazioni su quella questione e soprattutto ha aggiornato i fan sul suo processo, sul suo ritorno e quando potrebbe avvenire. La vita mi ha costretto a prendermi una pausa, perciò lo farò, ma mi rivedrete presto. Avevo detto 2027 e qualcuno ci ha anche creduto. Quindi Adesania che per la prima volta innanzitutto ha smentito la questione del 2027 come era ovvio che fosse e poi ha anche aggiunto però che è la notizia vera e più importante che tornerà presto. Ora, presto che cosa vuol dire? UFC 300 magari perché un nome come Adesania sarebbe meraviglioso per UFC 300 in particolare perché le opzioni di matchup sono tutte fantastiche con lui specie in questo periodo della sua carriera e soprattutto contro chi in quale divisione tornerà? La domanda sulla divisione viene principalmente da farsela perché ovviamente il campione Massimi Leggeri adesso è all'expera era con cui la rivalità e la storia la sappiamo e avere una trilogia in UFC, quinto match complessivo, nei Massimi Leggeri quindi in un'altra divisione sarebbe un qualcosa di ancora più epico rispetto a tutti i match prima probabilmente e ovviamente oltre a quanto venderebbe, a quanto hype avrebbe, avrebbe un senso clamoroso per chiudere definitivamente, almeno in teoria, questa rivalità ed è un capitolo, il terzo di questa trilogia in UFC che in molti vorrebbero però Adesania era sempre stato piuttosto restio nel senso che ha detto io sapevo di poterlo battere, sapevo di volerlo battere, l'ho battuto adesso non sento il bisogno della trilogia e l'altra opzione è quella di affrontare il vincitore del main event di UFC 297 tra Sean Strickland che gli ha strappato il titolo ed il più sul pressì con cui ha una rivalità accesissima ormai da quasi un anno quindi in ogni caso dei matchup caldi con molto hype io sinceramente non vedo l'ora che torni in Israe a Adesania non sappiamo la tempistica precisa ma avendo detto presto viene da pensare sicuramente 2024 anche perché se no non avrebbe dichiarato prima dell'inizio del 2024 che tornerà presto non avrebbe avuto nessun senso quindi sicuramente Adesania lo rivedremo nel prossimo anno è interessante capire anche dove sarà in che momento della sua vita competitiva e della sua carriera sarà anche da un punto di vista di obiettivi nel senso che comunque è vero che Adesania non combatterà sicuramente tantissimi altri match questo l'avevo già detto in passato però comunque la sua idea inizialmente era di diventare champ champ adesso non ha neanche una cintura chissà che magari non voglio provare a riconquistare la cintura a pesi medi e poi magari lì sì andare a chiudere la trilogia con Alex Pereira o comunque cercare di vincere la seconda cintura chiunque sia il campione le opzioni non mancano e non mancano mai con Israe a Adesania queste sono veramente tra le più calde e le più entusiasmanti possibili fateci sapere nei commenti quale matchup preferireste per il suo ritorno se considerate giusta un'altra title shot al titolo pesi medi perché l'ha perso alla prima difesa del nuovo regno o se comunque bisogna calcolare come invece credo io il discorso del suo regno complessivo e della molle di lavoro che ha fatto complessivamente a campione pesi medi dirci che cosa ne pensate seguiteci su tutte le piattaforme trovate il link nella descrizione da qualche giorno siamo anche su TREDS grazie mille a tutti quanti ragazzi se non faremo altri video, altri live vi auguriamo di nuovo buone feste e buon Natale e ci rivediamo nel prossimo video